Musica Una goccia fredda in quota ha riportato la neve in Val d'Aveto, in Biancata, la cima del Monte Bue, pioggia abbondante sul Levante dove si è registrato un calo delle temperature. Cresce l'apprezzamento dagli utenti per il Chiama Bus a Recco, il servizio di ATP introdotto da meno di due mesi può essere utilizzato dagli abitanti delle frazioni con una semplice telefonata. La solennità dell'ascensione orienta il nostro sguardo al cielo e ci ricorda l'inizio della missione della Chiesa, il Papa ha spiegato il significato a Regina Celi pregando per i cristiani in Indonesia. Il mistero dell'ascensione è il mistero di gloria, di luce, di luce, a ricordarlo il Vescovo Diocesano che ha conferito il ministero del lettorato a tre seminaristi e dell'accolitato da Andrea Costa. L'enoturismo è in crescita ma il territorio Ligure va salvaguardato. Il tema ha discusso all'apertura di Mare Mosto a Sestre Levante. Oggi spazio ai professionisti e al concorso del miglior sommelier Ligure. Buongiorno ai telespettatori del TG13. Il meteo è il maltempo in apertura nel nostro telegiornale. La perturbazione che sta interessando in queste ore la Liguria ha portato ad un brusco abbassamento delle temperature. Così la neve ha fatto la sua ricomparsa sulle cime della Val Daveto mentre nel resto del Tiguglio la pioggia ha interessato il territorio. Questa mattina era imbiancata, la vediamo proprio dalla webcam, la vetta del Monte Bue. Come si può caratterizzare questa situazione e quale sarà la sua evoluzione? Lo chiediamo in diretta a Paolo Bonino, previsore del centro Meteo Ligure. Buongiorno Bonino. Sì, buongiorno a tutti. Eccoci qua. È tornato l'inverno? No. È soltanto una pausa della primavera. Ma diciamo che la primavera spesso ci fa vedere anche questi fenomeni di instabilità. Solo che negli ultimi anni maggio era più assimilabile ad un anticipo estivo in quanto c'erano già delle temperature di molto superiori alle medie. Quest'anno invece è un maggio direi decisamente più instabile. Quindi è più primaverile e la primavera può far vedere questi fenomeni di freddo tardivo e di pioggia. Ora è arrivata una goccia fredda, sì, una saccatura che dal vicino atlantico si è portata verso l'Europa occidentale. Poi si è isolato un minimo barico sul Golfo Ligure. Questo ha dispensato dei rovesci e dei temporali un pochino ovunque. Basti pensare che l'aria in quota è molto fredda, quindi a 5.000 metri sulla verticale del Mar Ligure al momento sono presenti meno 25 gradi. Il contrasto con le temperature presenti al suolo è molto elevato e da qui partono appunto queste nubi a sviluppo verticale che hanno dato luogo appunto a rovesci e temporali. Ecco, questa mattina alle 5 il termometro sulla vetra di Montevue toccava ai meno 1,5 gradi e tra i fenomeni più rischiosi ci sono le grandinate. Ci sono stati episodi di questo tipo in queste ore? Ma i fenomeni diciamo che non sono stati poi particolarmente intensi. C'è stato un temporale nel pomeriggio di ieri su Genova che però ha scaricato circa un 25 millimetri, qualche clicco di grandine però non delle grosse cose. Sì, dicevamo della neve che è caduta sopra i 1.600 metri sono stati imbiancati le vette appunto nel Montevue e del Maggiorasca e qualcosa di più nelle Alpi Livri. Qui la neve è scesa anche a 1.200 metri quindi qui le nevicate sono state anche direi abbastanza consistenti. Più che altro sono stati questi rovesci che hanno un pochino colto in preparata diciamo la popolazione in quanto si tratta di piovasti intermittenti che spesso lasciano spaccio al sole però poi dopo arriva il piovasco diciamo dietro quindi rende l'atmosfera molto instabile ecco. Come sarà l'evoluzione per le prossime ore? C'è un miglioramento perché questa depressione tende lentamente a colmarsi però diciamo lentamente perché ancora per quanto riguarda la giornata di oggi insisterà ancora su Marvigure quindi ci saranno ancora questi rovesci che si alterneranno a schiarite però diciamo che a mano a mano che si va avanti con la giornata le schiarite diventeranno più ampie e i rovesci meno probabili. Nella giornata di domani invece avremo ancora un po' di instabilità però la depressione si sposta verso il medio terreno quindi libera un pochino il Mar Ligure e comunque ancora ci saranno degli annuvolamenti al mattino forse qualche piovasco lungo le coste nel pomeriggio nelle zone interne comunque non una giornata instabile come oggi. Ecco nel salutarci una considerazione arrivavamo da un periodo di forte siccità le piogge si era fatta desiderare adesso abbiamo recuperato abbondantemente che dati avete da questo punto di vista? Sì 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 abbiamo recuperato e come perché basti pensare che su alcune zone della regione in questi primi cinque mesi è caduta tutta la pioggia che è caduta nell'anno scorso quindi è un recupero direi sostanziale delle piogge nelle zone interne ci sono già aree in cui le precipitazioni hanno superato i mille millimetri faccio per esempio riferimento al Lago delle Lame che dal primo gennaio ha accumulato 1311 millimetri anche la zona del monte La Ghicciola che è diciamo in Valdin, Valtrepia ha registrato 1069 millimetri quindi sono valori direi che ci mettono a riparo appunto da eventuali crisi idliche che appunto si paventavano per esempio lo scorso anno Bene grazie grazie Paolo Bonino per gli aggiornamenti riguardo a questa situazione meteo insolita Andiamo avanti con il telegiornale andiamo adesso a Recco perché a quasi due mesi dall'introduzione del servizio siamo andati a vedere come funziona il Chiamabus il servizio di trasporto pubblico a chiamata per i residenti delle frazioni collinari del comune da lunedì a sabato due autisti sono a disposizione degli utenti i quali possono chiedere di usufruire del servizio messo a disposizione da ATP con un semplice costo di un biglietto di linea ed una telefonata buona la soddisfazione degli utenti il cui numero è in progressivo aumento vediamo Siamo a Recco siamo nell'area del capolinea delle corriere di ATP e siamo venuti a vedere come funziona il servizio Chiamabus questo servizio che è in previsione che venga implementato anche nell'entroterra in Val Fontana Buona in particolare e questo è il bus lo vediamo che sta servendo a chiamata le frazioni dell'entroterra di Recco c'è un numero verde 800 68 83 29 e noi adesso andiamo a comporre proprio il numero per vedere chi risponde e come funziona il servizio Sì, buongiorno Dica Salve vorrei montare una corsa del Chiamabus sono in centro a Recco è possibile come funziona? Sì, va bene Sì, verso che ora? Guardi io ci sono in questo momento quindi se non è un problema anche subito Va bene, va bene sono già qua pronto se vuole andare Siamo anche noi qua quindi Ah eccolo qua Eccolo, eccolo e quindi risponde proprio lei? Rispondo io direttamente Allora, buttiamo giù adesso il telefono Lei staziona qua sostanzialmente? Sì, Capolina è qua davanti sotto il ponte della ferrovia Quindi una persona chiama il numero che abbiamo fatto risponde direttamente a lei Esattamente si può prenotare o smartphone telefonino che rispondo direttamente io altrimenti anche a voce non c'è nessun problema Dalle 7 di mattina fino alle 19 c'è il servizio sempre disponibile e niente a parte la domenica siamo sempre disponibili Ecco, le persone come hanno accolto questa novità? No, il servizio ha riscontrato un notevole successo Praticamente uno ha a disposizione un mezzo Come fosse un taxi praticamente Sono aumentati gli utenti c'è il passaparola? Sì, sono aumentati e stanno aumentando sempre di più Quanto tempo prima si può prenotare? prenotare dal giorno prima L'autobus è questo? È un mezzo leggero? L'autobus è questo ce n'è un altro in sostituzione anche con la pedana per i disabili eventualmente quindi diciamo che il servizio è garantito al 100% E sempre in tema di trasporto da dopo domani mercoledì 16 sarà possibile effettuare sul portale di ATP Esercizio le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per gli studenti residenti in diversi comuni della città metropolitana per il Tiguglio Casarza Ligure Sessilevanti Cugorno San Colombano Certenoli Correglia Neirone Tribogna Moconesi Borzonasca e Mezzanico E di ATP l'azienda di trasporto pubblico provinciale si occuperà questa sera la trasmissione direttamente su in onda alle 21.10 su Telepace 1 al canale 15 chi lo desidera potrà partecipare in diretta inviando un messaggio o un email E proseguono gli interventi di asfaltatura su tutto il territorio comunale di Rapallo mercoledì 16 giovedì 17 e se necessario anche venerdì 18 maggio gli interventi di scarifica e asfaltatura interesseranno sempre in orario notturno la rotatoria detta di Siggi nel quartiere di Sant'Anna via Arpinati dall'inizio e fino all'altezza del distributore di benzina e un tratto della corsia di destra a scendere di via Mameli altezza Campi da Tennis da lunedì 21 maggio fino a fine lavori la durata prevista di 5 giorni sono in programma lavori diurni in successione nello specifico asfaltatura di via Villa Grande via Guardastelle e via del Molinello nel tratto a Monte le immagini che vedevamo sono comunque le code provocate appunto dai lavori di asfaltatura e disagi che si sono verificati anche nei giorni scorsi nella zona di San Michele di Pagana è stato sorteggiato l'ordine con il quale i quattro candidati a sindaco di Sessi Levante e le liste collegate compariranno sulle schede elettorali alle prossime elezioni del 10 di giugno e prima Valentina Ghio il sindaco uscente l'ordine delle liste che la sostengono sono Viviamo Sessri Sessri al centro con Calabro Cristiani riformisti Sinistra in comune e Valentina Ghio sindaco secondo estratto è Denis Baldi con l'unica lista collegata potere al popolo terzo il Movimento 5 Stelle che candida Fabio Sturla quarto Gian Paolo Benedetti con le sue 5 liste in quest'ordine Futuro Migliore Segesta Domani Lega Liguria Riprenditi Sessri e Gian Paolo Benedetti Sindaco Voltiamo pagina al Papa adesso nella solennità dell'ascensione Francesco dedicato al Catechesi prima della recita del Regina Celi a spiegare il significato di questa festa che ha detto il Papa orienta il nostro sguardo al cielo e ci ricorda l'inizio della missione della Chiesa al termine della preghiera Mariana Santo Padre ha espresso la sua vicinanza alla comunità cristiana della città di Surabaya in Indonesia colpite da una serie di attacchi terroristici con una decina di vittime la sintesi nel servizio del centro televisivo Vaticano l'ascensione del Signore al cielo ci ricorda l'inizio della missione della Chiesa e questo legame tra cielo e terra al centro del Regina Celi di Papa Francesco l'ascensione ci è sorta ad alzare lo sguardo al cielo per poi rivolgerlo subito alla terra attuando i compiti che il Signore risorto ci affida l'ascensione del Signore al cielo sottolinea il Papa ci chiede di avere occhi e cuore per incontrare Gesù per servirlo e per testimoniarlo agli altri la missione che Gesù affida ai discepoli andate in tutto il mondo e proclamate l'Evangelo ad ogni creatura è senza confini e supera le forze umane sembra davvero troppo audace l'incarico che Gesù affida a un piccolo gruppo di uomini semplici e senza grandi capacità intellettuali eppure questa sparuta compagnia irrilevante di fronte alle grandi potenze del mondo è invitata a portare il messaggio di amore e di misericordia di Gesù in ogni angolo della terra il progetto di Dio sostenuto dalla forza che Dio stesso concede agli apostoli e dallo spirito santo si snoda attraverso i secoli e prosegue ancora oggi Francesco nel giorno in cui si celebra la festa della mamma ha salutato tutte le mamme ringraziandole per la loro custodia delle famiglie il santo padre ha ricordato anche le mamme che ci guardano dal cielo e continuano a custodirci con la preghiera preghiamo aggiunto la nostra mamma celeste che oggi 13 maggio con il nome della nostra signora di Fatima ci aiuta a proseguire il cammino dopo la rescita della regina Celi il pontefice ha salutato gli alpini riuniti a Trento per l'adunata nazionale incoraggiandole ad essere testimoni di carità e operatori di pace Francesco ha ricordato infine che oggi ricorre la giornata mondiale delle comunicazioni sociali incentrata sul tema fake news e giornalismo di pace e ha salutato tutti gli operatori dei media in particolare i giornalisti che si impegnano a cercare la verità delle notizie contribuendo ad una società giusta e pacifica veniamo in diocesi nella cattedrale di nostra signora dell'orto a Chiaveri il vescovo di Cesano ha presieduto la liturgia nella solennità dell'ascensione Monsignor Tanasini nel richiamare il significato di questa ricorrenza ha sottolineato come tutti siamo parte integrante del corpo di Cristo che è la chiesa nel corso della celebrazione sono stati conferiti i ministeri del lettorato e dell'accolitato sentiamo il mistero dell'ascensione è mistero di gloria di gioia di luce a ricordarlo il vescovo diocesano Alberto Tanasini che ha presieduto la celebrazione eucaristica nella cattedrale di nostra signora dell'orto la liturgia stessa propone la lode la gioia l'applauso a Cristo che sale nella gloria per prepararci un posto in cielo questo mistero è un tutt'uno con la Pasqua Gesù ha compiuto la sua missione sino alla morte in croce la risurrezione la manifestazione ai suoi discepoli ma il suo posto non è più sulla terra il suo distacco non è assenza ma è presenza nuova una presenza più ampia asceso alla destra del padre Gesù diventa signore di tutte le cose e mediatore tra Dio e gli uomini dunque continua il suo rapporto con noi da qui la domanda cerchiamo noi ciò che riempie la nostra vita ciò che dice ecco non ti manca più nulla lo cerchiamo bene lo troviamo in Cristo la solennità dell'ascensione ha detto il vescovo dovrebbe aiutarci a rompere quella cappa grigia che abbiamo innalzato tra noi e il cielo portandoci a pensare solo a cose che ci interessano immediatamente Gesù ci ricorda che siamo fatti per questa pienezza Gesù asceso al cielo si rivela come capo glorioso di un corpo e il suo corpo è la chiesa nella solennità dell'ascensione hanno ricevuto il ministero del lettorato tre seminaristi Simone Garibaldi Tommaso Mazza Giovanni Vaccaro e ha ricevuto il ministero dell'accolitato Andrea Costa il vescovo ha ricordato anche che domenica prossima ordinerà presbitero Don Paolo Nicoda tutti questi per il servizio alla nostra chiesa in questo modo noi certamente ci rallegriamo del dono di Dio del dono che Dio ci fa in loro ma nello stesso tempo siamo richiamati ad essere noi stessi al servizio del corpo di Cristo la cronaca ora incidente per fortuna senza gravi conseguenze ma molto spettacolari ieri pomeriggio a Sestri Levante un 85enne alla guida della sua vettura ha sfondato una recinzione andando a terminare la sua corsa nel cortile di un condominio vediamo proprio la foto ha rotto roti anche i contatori del gas l'anziano non si è fatto niente sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale restiamo a Sestri Levante seconda e ultima giornata di Mare Mosto oggi spazio ai professionisti con laboratori degustazioni e in serata la proclamazione del vincitore del concorso miglior sommelier 2018 della Liguria la manifestazione dell'AIS ha portato all'ex convento dell'Annunziata numerose persone imprenditori del settore e semplici appassionati siamo andati a vedere dietro questo calice c'è una geografia di culture oggi percorsa da un numero sempre più elevato di persone lo dimostra il pienone alla prima giornata di Mare Mosto Sesti Levante mette in vetrina il meglio della produzione Ligure con espositori da tutta la regione ognuno con la sua filosofia così c'è chi spreme le uve in modo tradizionale e fermenta senza ricorrere a prodotti aggiuntivi fermento sulle bucce come una volta tratto le uve bianche come fossero delle uve rosse siamo arrivati a far fermentare le uve bianche tre settimane e c'è chi testimonia un lavoro ricco di passione ma anche di difficoltà l'anno scorso dopo un anno di lavoro abbiamo preso una grandinata che ci ha in tre minuti distrutto 80 quintali d'uva quindi ci sono i lati positivi però tanta fatica e anche tanto rischio all'ex convento dell'Annunziata spazio all'enoturismo con un confronto a più voci sul momento attuale e sulle proiezioni future oggi è emerso si punta sull'alta formazione segno che il settore è in forte crescita nei primi mesi dell'anno sono stati incassati in Italia solo nel mese di gennaio 400 milioni di euro in più rispetto al 2017 che è stato un anno eccezionale per crescere ancora occorre salvaguardare i territori in alcune zone come le Cinque Terre se non si investe si rischia di perdere aree oggi abbandonate ho paura che fra 50-100 anni non sentiremmo più parlare di Cinque Terre bisogna darsi da fare per salvarlo esattamente come si parla di Venezia o di altre città d'arte il futuro del settore sono i giovani alcuni già imprenditori altri guidati dalla passione a frequentare corsi da sommelier e concorsi per poi investirsi in aziende di famiglia o in sogni futuri si va a scoprire un mondo che sta dietro il vino a partire dal territorio e quindi è davvero meritevole ti piace questa attività? tantissimo tantissimo e devo dire che è anche un modo per legarmi al mio territorio dove sono nata e cresciuta quindi è bellissimo linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti e servizi di sport il Corriere della Sera titola Lega e Movimento 5 Stelle siamo pronti oggi Salvini e Di Maio salgono al Quirinale e vediamo la stretta di mano che sembra più un braccio di ferro la Juventus vincitrice del settimo campionato di fila festa bianconera nessuno ha mai vinto tanto tanti campionati di fila sette bello della Juventus lo scudetto che fa storia e poi gli ulivi malati l'Unione Europea ha deciso a punire l'Italia vediamo all'interno del Corriere della Sera allarme xylella milioni di ulivi colpiti l'Europa è pronta a chiedere i danni superstizioni e atteggiamenti antiscientifici hanno impedito di intervenire rapidamente e appunto adesso si parla addirittura di una punizione da parte dell'Unione Europea siamo sul secolo XIX patto Lega Movimento 5 Stelle oggi il Premier e poi i camogli tutti in coda per una frittura la sagra del pesce iniziativa sul web skipper dispersi raccolta di fondi per continuare le ricerche di Aldo Revello e Antonio Volnea e due notizie il banco di chiave richiude se agenzie malore alla guida muore un impiegato di 40 anni vediamo all'interno del secolo XIX si ribalta con l'auto e muore sul colpo malore alla guida tragedia varese Ligure la vittima aveva 40 anni Fausto Cerisola abitava a Codivara era impiegato della ditta Bandelloni di Carasco aveva appena salutato gli amici in un locale del centro non mi sento tanto bene aveva detto uscendo e sempre dal secolo XIX Banco di Chiaveri sei agenzie chiuse a Portofino Sestri Santa Margherita Molleone Carasco e Castiglione il gruppo BPM prosegue nella razionalizzazione della propria rete di vendita Per la cronaca un 44enne partenopeo già gravato da pregiudizi di polizia è stato deferito in stato di libertà per truffa dai carabinieri di Chiavari le indagini sono partite dalla denuncia di un 34enne palermitano abitante nel Tiguglio quest'ultima avrebbe tramite bonifico postale versato una somma quale corrispettivo per l'acquisto del materiale necessario a svolgere il lavoro di imbustatore da casa secondo un annuncio letto su internet il napoletano tuttavia avrebbe incassato il denaro ma non consegnato il materiale necessario e andiamo adesso in redazione per vedere se ci sono ulteriori aggiornamenti Maurizio Garnefa grazie Andrea un saluto a tutti ricordiamo una chiusura temporanea della circolazione veicolare in via Mamelia Rapallo già oggi nel tratto compreso tra via Ferretto e via del Carmelo decisione che è stata presa per consentire lavori di riparazione alla rete idrica per conto di IREN tra i civici 149-165 per non causare disagi al traffico gli interventi saranno eseguiti in orario serale e notturno la chiusura sarà effettuata per tre serate consecutive dalle 20 fino alle 6 del mattino oggi domani e mercoledì l'autobus di linea transiterà in questi orari eccezionalmente in via della libertà a te Andrea veniamo allo sport la via Tocentella è già in campo per preparare al meglio la partita decisiva contro il Novara al Piola servirà un'impresa per accedere ai play out e provare a salvare la stagione diverse le critiche mosse sui social alla squadra ma tra i tanti tifosi c'è il desiderio di sostenere i propri i colori venerdì sera in Piemonte sentiamo sono convinto che a Novara verranno in tanti perché comunque ci credono stanno lottando con noi stanno soffrendo con noi e speriamo di soffrire e gioire insieme tutti alla fine si appella ai tifosi il capitano della Virtus Entella in vista della sfida di venerdì sera a Novara nonostante la sconfitta il match contro il Frosinone ha visto una gradinata sud completamente piena un'arma che i bianco celesti vorrebbero con sé anche allo stadio Piola i nostri sostenitori ha scritto il presidente Gozzi hanno dimostrato di crederci come ci crediamo noi adesso tutti a Novara per giocarci l'ultima chance di rimanere in Serie B sui social è scattata la mobilitazione per venerdì sulla pagina Facebook della gradinata sud ci sono tutte le informazioni per prenotare il viaggio in Pullman per i giocatori intanto è iniziata la settimana decisiva ieri già tutti erano ad allenarsi sul sintetico del comunale spronati da Mr. Volpe è ancora forte la delusione per la sconfitta contro i ciociari ma sembra esserci la grinta giusta per tentare l'impresa psicologicamente è arrivata una finale adesso venerdì avere un risultato solamente su tre in un certo senso magari vi può far pensare che è un'ultima spiaggia quindi zero calcoli tutti all'attacco per vincerla sì sì ma penso che ecco non abbiamo altri risultati quello che siamo detti questa settimana era questo che comunque sarebbe andata oggi dovevamo assolutamente offrire una buona prestazione perché nonostante la sconfitta non sarebbe finita e così è stato perché comunque andiamo a Novara è vero che dobbiamo solo vincere però ecco loro devono vincere anche loro se no fanno i play-out quindi penso che nella testa avremo la stessa testa e dobbiamo essere bravi a fare questo a fare una settimana intensa pronti tutti perché comunque abbiamo visto oggi comunque c'è stato bisogno di tutti e dobbiamo avere questo atteggiamento penso che il Novara di fronte si troverà una squadra che non vuole retrocedere daremo tutto sputeremo sangue metteremo il cuore butteremo il cuore l'altro ostacolo perché veramente è l'ultima spiaggia e con lo sport si conclude questa edizione del TG13 l'informazione torna questa sera con la prima edizione alle 20.30 in quanto quella dalle 19.15 non andrà in onda dalle 19.00 su Telepace 1 al canale 15 trasmetteremo in diretta l'incontro di Papa Francesco con la Diocesi di Roma quindi non ci sarà l'appuntamento con la prima edizione di TGUli oggi alle 20.30 dunque la prima edizione del nostro telegiornale tutte le notizie comunque le trovate sul nostro sito internet teleradiopace.com grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata